video sarà questo video veloce e diretto io la chiamo la pura energia che sta avvenendo in questo momento abbiamo fatto fuoco guarda quello è il pezzetto d'albero che ho tagliato io e che mi dà energia questa è l'energia quella giusta ho fatto anche il caffè sul fuoco invece che usare il gas pensa l'albero quanta energia ti dà bettulla giusto non mi ricordo se no bettulla comunque bettulla ma comunque qui abbiamo il tiraggio aria già troppo chiudiamo un po così con la mano ecco mettiamo livello così qui tiraggio ma siamo medio mettiamo un po qua così ok richiudiamo questo ricordiamo questa era un'antica tiba svizzera madre parta in svizzera non lo so comunque guardate il riflesso della bettulla questo cellulare è fantastico un retmi xiaomi retmi 9t comprato da poco ok ma video non si concentra sul cellulare ma sull'energia della legna sento l'odore senti il profumo della legna vera energia sembra fresca quasi appena tagliata da poche ore e l'ho tagliata io tanto che dicono tutti che non faccio niente che non lavoro ok non taglio legna soprattutto e che non vedranno mai con una motosega in mano invece magari ma circa più o meno sette ore fa eravamo con una motosega nel bosco lo chiamano proprio loro di legno e questo è senti come tira la stufa sentite sembra un motore aspirato e forse lo è l'energia del faccio della bettulla e quant'altro ancora senti tiraggio sto respirando pure energia non ho fatto vedere aspetta guarda cosa mangio adesso il frico ecco come si chiamava il frico colui che ha questo che può vantarsi di mangiare questo è a posto praticamente mi sono fatto la serata frico stufa naturale bettulla faggio energia domani tornerò nel bosco taglieremo i facci goodbye